Vincenzo, presentiamo lo spettacolo che si terrà il 4 e il 5 gennaio al Teatro della Maruca. Riderete anche stasera a Tiosceni in luogo pubblico. È uno spettacolo assolutamente da non venire a vedere perché è veramente l'antiteatro. Demoliamo quello che è il teatro italiano attraverso il cabarella, ma spettacolo. Una costruzione di uno spettacolo inquietante che lascerà lo spettatore perplesso. Quindi io se fossi da casa lo spettatore non verrei a venire a vedere questo spettacolo che si terrà sabato e domenica 4 e 5 gennaio. Nico D'Amoscusa, ma come fai a lavorare con lui, a fare spettacolo con lui quando poi magari al pubblico dice di non venire e di non partecipare alla serata? Perché a lui piacciono le sorprese, quindi mette il pubblico ancora di più con una certa suspense e quindi lo fa a posto. È un trucchetto che lo fa spesso, è molto bravo Vincenzo su questo. Questo spettacolo, che tipo di spettacolo è? È uno spettacolo di avant spettacolo. Ovviamente Vincenzo è il maestro e lo saprà spiegare sicuramente meglio. Vai Vincenzo. Vincenzo dai. Ragazzo, me lo sono cresciuto bene. È uno spettacolo di avant spettacolo, quindi di cabaret, di vaudeville, all'interno di tutto e di più. In scena con me c'è Nicodemo, che è un allievo, attore, che debutta con uno spettacolo per la prima volta da professionista, quindi lo teniamo a battesimo. Il nostro è un gruppo che si chiama Guitti senza carrozzone, un collettivo teatrale di Rocca Bernarda, nato ormai da 3-4 anni, che quest'anno, dopo il laboratorio con Lello Arena e questo spettacolo, inizierà una serie di attività, diventerà una vera e propria associazione culturale e ci sono tanti progetti in corso. Ad esempio l'incasso di questo spettacolo verrà utilizzato proprio per ufficializzare l'associazione culturale. Che tipo di serata ci dobbiamo aspettare, tenendo conto di quello che è il titolo? Una serata assurda, davvero. È molto pericolosa e spero che il pubblico riderà, perché già abbiamo voluto azzardare noi con il titolo, lo riderete anche stasera, ma secondo me sicuramente non piangerà, ma c'è il pericolo che ci darà le botte quella sera, altro che ridere. Come promozione siamo bravissimi, devo dire che siamo veramente in gamba. Vincenzo, quindi il 4 e 5 al Teatro della Maruca, uno spettacolo solo serale o c'è anche quello pomeridiano? Allora, sabato sera alle 21.30, domenica alle ore 18, quindi magari non avete niente da fare, volete inquietarvi, noi siamo qui, vi aspettiamo.